musica no non ho capito vabbè ma chi se ne frega ce lo vengo a di in chat che è morto il titolo non è fake giovi verrà introdotto però tra qualche giorno l'ha introdotto domenica mi pare no no non è forte in questi fight qua iniziali è fortissimo sono già main nel senso che lo sarò mi sottovaluti già analizzato il gameplay è tutto come se lo conoscessi a memoria io prendo i dentini il coglione sei tu nooo i dentini i dentini ce l'avevo in un secondo devo lasciare quello delle quindici nel senso il gioco voi alle quindici si l'ha presa lui certo vado via no la focus vabbè rapido del vetto il coglione sei tu in più madonna questa mossa la odio a volte porco due ma proprio chi è che prende in seguimento con absol ed è più del livello 10 nel senso di account non di player cioè non di pokemon però vero si lo sto giocando io qualche volta cioè qualche volta sto spammando nei giorni scorsi cogliavolo proviamo sta combo qua che secondo me dovrebbe adesso avere viabilità vedi ci sta ci sta ci sta per te che non finisce mai 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 Madonna che palle Ma quello ci muore Eh ma mi prende Forse no Attenzione Forse era un po' basso di vita Giusto un po' No infatti non si scappa la petalodanza Impossible Ma questo ha preso Fire Blitz Fire Blitz Fire Blitz Sì Fire Blitz Fire Punch Ok Boom Ma mostro il problema No dai ma perché Ma perché si è fatto vedere Ma come è che cazzo Ha ultato Ve lo tenevo stunnato Oh e vaffan cucolo Eh che cazzo Yeah Io ti sto bad di barrier Oh Questa Questo lo prendo Così ne faccio La ulti Che buono Comunque Comunque no Vedrò di non toglierlo Insomma Completamente Se non toglierle Completamente Partite con voi Anche se Sinceramente Se dobbiamo beccare i bot Eh Le andrò a togliere Completamente Perché se no Ragazzi Non è divertente Né per me Né per voi Quando Quando becchiamo i bot Quindi Pur di non beccarli Eh Non giochiamo Serve lì Una manina Lo se dà Le fai le spese tu Non ce la fai A consegnare Immagino Mai Ti hai visto Tieni Così Poi ti metto Sulla pedana Vai No vabbè Non ulti Avrei ultato Per il meme Giusto per prenderli tutti C'era nessuno Dei miei Guarda Lord player Porca Cazuzza Non che io possa farci molto Ma non penso Come deve andargli addosso Ma perché siamo andati a fightare lì Vai vai Pallo Pallo Dai Pallo Dai Non c'è nessuno Dai Sono tutti i bot Buonanotte L'avevamo già fatto No vabbè Che idiota Che idiota L'avevamo già finito Guarda tu Guarda tu Guarda tu se Perché 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 Oh Ho sbagliato Adesso Avevamo già Finito da un'ora Proprio Oddio Che f***o Fortuna L'abbiamo preso Non ti preoccupare Li mettiamo noi I tuoi punti Che f***o 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 Che f***o